Sarebbe stato bello vincerlo direttamente il campionato perché comunque avevamo impostato l'inizio su una impronta importante e sono contento perché mi sono trovato subito bene dall'inizio e credo che il mio percorso sia stato un percorso in crescita e quindi speriamo di arrivare ai playoff e poter metterci la ciliegina sulla torta. Ne abbiamo risentito perché comunque sai giocare con i tifosi che ti possono dare anche quell'arma in più anche nelle partite in casa diventa una cosa bella, infatti immagino quando ci saranno le riaperture che ci sarà la prima volta nello stadio pieno sembra la prima volta di giocare a calcio. Sì, soprattutto anche per queste situazioni di contagi una cosa e l'altra che non aiutano, anzi portano sempre degli slittamenti e non è facile neanche programmare le cose. Sono strani perché poi dopo non si gioca con il pubblico e la speranza è quella di riuscire ad arrivare comunque a sorpassare più turni possibili e anche se non c'è la gente che ci viene a guardare di comunque alla fine trovarci e regalargli una gioia se è possibile. E' difficile anche perché comunque ti alleni pensando che comunque la domenica non devi giocare quindi il lavoro deve essere anche bilanciato su questa situazione qui. Adesso comunque stiamo entrando nella settimana che ci porta alla domenica che non giocheremo ma la prossima settimana già iniziamo ad affrontare la prima partita quindi dobbiamo farci trovare pronte e lavorare e pensare solo a quello e pensare al campo. Influire solo quello che è per il risultato finale ma non bisogna farsi condizionare da questa possibilità di avere il vantaggio perché comunque anche nel precedente turno nei playoff tante squadre che avevano il vantaggio poi sono uscite quindi bisogna entrare e pensare di far bene e portare a casa il massimo risultato senza essere vincolati da questa situazione qua. L'obiettivo è quello di essere qua insieme ancora 13 giugno e 16 che sia quindi bisogna essere bravi, compatti, andare tutti dritti nella stessa direzione e lavorare sodo per poterlo raggiungere.